Il leader del Carroccio, Benedice Cusano, mercoledì alle 13.15 è stata convalidata da Matteo Salvini la candidatura a sindaco per la Lega sul Tricolle. Un'unica lista, quella di partito, con a capo generoso Cusano e dove non figurerebbe il nome di Pasqualino Santoro, altro componente della prima ora dei salviniani arianesi. Dunque nessun accordo e corsa singola. Non vogliamo liste sciviche, siamo noi, il centrodestra rappresentando in pieno il progetto politico di Salvini, commentano dagli ambienti della Lega. Poderosa invece è la squadra che supporterà la ricandidatura di Domenico Gambacorta. Si potrebbe chiudere con sé liste, fra cui una ufficiale di Forza Italia con il vice sindaco Scente, Popolo e il capogruppo in consiglio Claudio Nisco. E poi una di Fratelli d'Italia a seguito dell'accordo firmato fra Gambacorta, D'Amato e Pino Maraia. Corre con due liste invece il centro-sinistra, una civica di orientamento socialista, Ariano Futura per Enrico Franza, sindaco, e una del PD, Ariano Popolare e Progressiste di sinistra. Si candidano ad essere l'alternativa i 5 Stelle che dopo una serie di incontri con gli elettori per elaborare il cosiddetto progetto Ariano stanno organizzando per domenica alle ore 18 presso Palazzo degli Uffici la prima uscita pubblica del candidato a sindaco Mario Iorio con tutti i parlamentari irpini del Movimento 5 Stelle. Con la civica Arianova ci sarà Anselmo Lamanna che il 23 aprile ha ufficializzato la sua candidatura nella sala giunta del municipio presentando già il candidato più giovane e quello più anziano della lista e affermando chiaramente che l'intento è di sedersi per la prima volta in consiglio comunale e di non voler essere considerato la stampella di nessuno in caso di ballottaggio. Considerando la cinquina è quasi matematico che per Ariano si dovrà votare due volte.